La lunga italo-americana Samantha Ostarello è una nuova giocatrice della Molisana Basket Campobasso, confermate le indiscrezioni circolate prima dell'ufficializzazione del ripescaggio nella massima serie nazionale per il club Rosso-Blu. Una giocatrice duttile in grado di ricoprire indistintamente gli spot di ala pivò e di centro. Per la giocatrice statunitense le prime esperienze in Europa tra il 2014 e il 2015 nella seconda divisione Turca e Repubblica Ceca, poi nella sergione successiva l'arrivo in Italia a Vigarano con un torneo da doppia-doppia, 13 punti e 10,3 rimbalzi a partita con 14,4 di valutazione media. La successiva invece nello scorso torneo in Veneto a San Martino dei Lupari con 11,7 punti e 7,8 rimbalzi di media a partita con una valutazione media salita a 15,4 e a livello di curiosità statistiche ben tre stoppate dati a Lucca, particolare e non secondario per una vera e propria intimidatrice nell'area dei tre secondi. A Campobasso vivrà la sua terza esperienza nella massima serie tricolore. Lo scorso novembre lo staff tecnico nella nazionale italiana femminile coordinato dal molisano Andrea Capobianco ha inserito la Ostarello nella lista delle sedici azzurre convocate per il raduno di Cagliari in vista dei primi due appuntamenti delle qualificazioni dell'Eurobasket Woman che nel 2021 si giocheranno in Spagna e in Francia. Samantha Ostarello ha ottenuto la maglia azzurra grazie ai suoi antenati, un bisnonno partito per gli States da Roana centro in provincia di Vicenza nella gara contro la Danimarca ha referto anche i primi due punti con la maglia italiana. Messa a tacere questa voce di mercato nell'ambiente della palla spiccherosa un altro nome associato alla molisiana basket Campobasso Voita lo scorso anno nella Liga Spagnola è stata eletta anche migliore alla piccola di tutto il campionato la statunitense conosce già il campionato italiano avendo indossato dal 2014 al 2017 la maglia di Lucca con la quale ha vinto anche lo scudetto poi dal 2017 al 2019 è approdata a Broni prima dell'esperienza iberica mercato in ingresso ma anche in uscita resterà in A2 e nella Crisantidu lo scorso anno a Campobasso la giocatrice greca ha firmato con la Virtus Cagliari.